ciao a tutti ho preparato gli ingredienti per fare questi spazzol vediamo come farli li farò bianchi nel canale c'è già un video con gli spinaci questa volta voglio farli soltanto bianchi sapete che mi piace l'alto adige ci vado ci andiamo da anni con la famiglia e sono molto affezionata anche ai loro piatti quindi vedete molto semplice la preparazione ho messo io qui sto facendo una dose minima per una persona massimo due persone due piatti non tanto abbondanti quindi se volete farne di più raddoppiate allora ho messo l'uovo la farina di farro sto mettendo tutto il resto il latte non l'ho messo tutto perché mi debbo regolare anche voi se cambiate magari tipo di farina naturalmente si può fare anche con la farina che so tipo 1 se non avete il farro però la ricetta tirolese prevede la farina di farro l'impasto metto ancora un pochino di latte vedete deve deve essere non duro nemmeno troppo liquido perché deve scendere poi dall'attrezzo spazzolub mi sembra che si chiami poi ve lo faccio vedere che serve per fare questi gnocchetti spazzol significa passerotto passerotto quindi adesso non so perché li hanno chiamati così forse perché sono irregolari un po' lunghi o tondeggianti bene vedete l'impasto ecco direi che così va bene perché deve scendere piano piano dall'attrezzo lo lascio riposare mi preparo intanto il condimento che non è il condimento classico e di solito si usa per questo piatto è di solito si usa prosciutto e panna però io ho visto una ricetta in tv con questo condimento e voglio provarla quindi metto a cuocere la zucca per farla ammorbidire per benino e poi frullarla la lascio cuocere con un goccio di acqua se la zucca tira fuori l'acqua di suo non serve altrimenti aggiungete l'acqua fino a che non diventa bella morbida da poterla frullare ecco qua la sto frullando con un semplice mixer ad immersione ci ho aggiunto un pochino di latte perché l'ho visto un po' secca e quindi regolatevi ecco qua la crema di zucca è pronta avete visto ci ho messo anche un po' di sale non molto con un po' di pepe per insaporirla ci allungo un po' di latte e questa è pronta poi ci verserò gli spazzol ma ne toglierò un po' per la guarnizione mi preparo anche lo speck con il burro il mio di speck è abbastanza secco anche troppo ci ho messo anche un po' di cipolla anche se nella ricetta mi sembra che non sia prevista la cipolla che a me piace e la metto ho messo poco burro quindi allungo con un po' di olio e faccio soffriggere scusatemi la voce stamattina una volta dorato tolgo qualche pezzettino di speck che userò per guarnire il piatto qui ho usato diciamo una fetta insomma non ho messo il peso dello speck perché regolatevi insomma per una porzione due porzioni una fettina può abbassare allora faccio appassire bene la cipolla e poi ci verso un po' di della crema non tutta vedete abbastanza densa quindi ci metterò o ci mettiamo un goccio di latte io non uso in questo caso la panna quindi farò un piatto senza panna ci metto un po' d'acqua la quale sta bollendo per cuocere gli spazzol spazzolo scusatemi non so la pronuncia non è proprio perfetta allora qui verso l'impasto vedete l'attrezzo per fare i gnocchetti questo l'ho comprato su in alto adige ci verso l'impasto vedete la consistenza è giusta scende addirittura da solo vedete poi si spezzano vengono abbastanza lunghetti se li voglio un po' lunghetti sposto su e giù piano se li voglio un pochino più corti vado più veloce vedete che scendono anche da soli ok nell'acqua ho messo un po' di sale e vado bene finisco tutto l'impasto ok e poi aspetto giusto due minuti che vengono tutti su a galla faccio bollire ecco qua adesso scambio un pochino la padella così vi faccio vedere bene naturalmente come vi ho detto prima se volete preparateli prima così sono subito in contemporanea con la salsa e con la cottura però potete anche prepararli prima ci ributto dentro così con un po' di acqua sgocciolanti vedete sono queste sono due porzioni vediamo bene il piatto e li faccio faccio assorbire bene la crema di zucca ai gnocchetti non li faccio saltare come i grandi chef perché sennò volano non sono una chef stellata e non lo so fare ci metto anche un po' di parmigiano un altro attimino e sono pronti ecco qua assaggio così vedo se stanno bene di sale perfetti metto ancora un po' di pepe i nostri spazzol sono pronti bene bene andiamo a preparare il piatto ci metto una base di crema di zucca e ce li verso sopra eccoli qua ok un altro pochino naturalmente se mangiate tanto una porzione se no sono due vedete io direi che due porzioni ci stanno con questa dose ho messo un pochino di crema ci metto sopra lo spec che avevo tolto lo spec croccante ecco qua il nostro piatto è pronto mettiamoci anche un po' un altro pochino di parmigiano io lo amo e vai bene amici vi ringrazio della visione come avete visto basta avere l'attrezzo non è molto difficile farli anche se quelli che mangiamo in alto adige sono buonissimi sono sicuramente speciali però anche questi vanno bene ciao a tutti ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao